Ben ritrovati nel canale di Simodefa durante il corso di questo video vi andrò a far vedere come noi possiamo registrarci all'interno di Bidget come possiamo andare a mettere in sicurezza il nostro account e inoltre vi andrò a presentare l'exchange andandovi a far vedere tutte quelle che sono le funzionalità base presenti all'interno appunto dell'exchange Bidget potete trovare questo video assieme a tutti gli altri video relativi a Bidget nella playlist dedicata che vi lascio qua in alto a destra nelle schede oppure qui sotto nella descrizione del video per il resto ragazzi io non ho nient'altro da dirvi perché vi spiegherò tutto a computer l'unica cosa che vi chiedo è di lasciare un like per l'algoritmo di youtube e vi invito inoltre ad iscrivervi al canale per seguire tutti i miei prossimi contenuti perfetto signori eccoci all'interno di Bidget allora se non siete ancora registrati io vi invito a farlo tramite il link referral che trovate nella descrizione del video in questo modo avrete dei welcome bonus nonché uno sconto sulle commissioni a vita utilizzando la piattaforma quindi ecco se non siete ancora registrati link in bio per registrarvi durante il corso di questo video vi andrò a far vedere come noi abbiamo la possibilità di mettere in sicurezza l'account cosa fondamentale quando ci registriamo ad un exchange crypto e vi farò una rapida presentazione di tutte quelle che sono le sezioni presenti all'interno di Bidget non mi accentrerò all'interno delle varie sezioni perché ve le spiegherò in dei video che usciranno nelle prossime ore nei prossimi giorni potete registrarvi dal sito ufficiale di Bidget o da un link referral per esempio il mio che trovate qui sotto nella descrizione del video avrete dei bonus quando vi registrerete che trovate sulla sezione area premi quindi cliccando su questa sezione riuscirete a trovare quelli che sono i vostri premi e eventuali bonus presenti all'interno della piattaforma per esempio vedete se andiamo a seguire 5 nuovi trader riceviamo per esempio 50 dollari bonus se andiamo a completare l'attività di strategy trading altri 6 dollari insomma con il mio bonus avrete ulteriori bonus di invito nonché lo sconto sulle commissioni quindi questa è la prima cosa dalla quale voi dovete andare a partire seconda cosa quando voi vi registrate dovete mettere in sicurezza l'account per metterlo in sicurezza dovete cliccare su questo mino e andare su security per quanto riguarda le security setting le trovate qua quindi ci cliccate sopra e da questa schermata avete la possibilità di innanzitutto modificare la password nel caso vogliate andare a modificare la password qua trovate il numero di telefono con la quale vi siete registrati e la rispettiva email la cosa che vi consiglio di fare all'inizio è di settare un google authenticator è un'applicazione che voi scaricate all'interno del vostro dispositivo mobile che vi darà un codicino univoco al momento diciamo dell'accesso a widget quindi è un'applicazione che vi installate sul telefono che vi permette di autentificare ogni vostro accesso alla piattaforma vi consiglio assolutamente di impostare un google authenticator perché è ad oggi uno dei meccanismi di sicurezza più utilizzati e sicuri potete inoltre andare ad impostare per esempio un codice dei fondi questo cosa vuol dire che per esempio ogni qualvolta noi andiamo ad effettuare un white draw dalla piattaforma per esempio di crypto ci chiederà un codice segreto che avremo impostato noi ulteriore codice di sicurezza il codice anti-pishing che ci permette praticamente in ogni mail che riceviamo da widget solo se sarà presente il codice anti-pishing sapremo che quella è una mail ufficiale di widget quindi questa è un'impostazione in più che possiamo tranquillamente andare a settare in questo caso io posso settarla assieme a voi quindi andando a fare impostazioni e andando a inserire per esempio un codice anti-pishing io seleziono a caso non lo so 4455 in ogni mail ufficiale di widget mi devo andare a ritrovare questo codice se no capisco che quella è una mail non ufficiale magari con un probabile attacco di phishing da parte di qualcuno quindi vado a impostare questo codice anti-pishing deve essere almeno di 8 caratti quindi 4455 4455 e via e per settarlo devo andare a verificare la mail, l'sms e l'authenticator non ho voglia di farlo ora ragazzi comunque questa è un'impostazione in più che potete andare a mettere per mettere al sicuro il vostro account altre cose potete andare a collegare l'account a google in questo modo potrete loggarvi all'interno della piattaforma direttamente dal vostro account google nonché collegarlo al vostro id apple andando su gestione delle attrezzature potrete andare a vedere tutti quelli che sono i computer che si sono loggati diciamo a widget ed eventualmente andare ad eliminare un computer che non riteniamo diciamo consono con l'utilizzo che noi utilizziamo nella piattaforma questo è come noi mettiamo in sicurezza l'account è la prima cosa che voi dovete andare a fare quando vi registrate in un exchange dopodiché vi sbloccate i bonus sulla sezione area premi e poi iniziate ad utilizzare l'exchange adesso vi farò una rapida presentazione non entrerò all'interno di tutte le sezioni perché come detto usciranno dei video dedicati nei prossimi giorni però principalmente da questo schermato abbiamo una specie di menu dove ci fa vedere le proof of reserve la proof of reserve è praticamente i fondi che widget ha a disposizione in caso di crash di mercato in caso di problemi ecco widget fa vedere di essere liquido di avere delle riserve a garanzia del capitale e lo potete andare a vedere qua poi c'è il programma referrer che vi permette di invitare amici e guadagnare commissioni sulle persone invitate appunto un programma di affiliazione abbiamo l'API trading cosa viene utilizzato l'API? non lo so assumete che c'è una persona che vuole andare ad effettuare un trading speculativo con la sua strategia sfruttando widget appunto andando a collegare quelle che sono l'API di widget con la piattaforma esterna riuscirete a collegare l'account e quindi effettuare per esempio il servizio di copy trading servizio di copy trading che però viene offerto anche all'interno della piattaforma tranquilli adesso ci arriviamo per quanto riguarda altre informazioni da questo menu trovate la widget academy che sono dei video che vi possono spiegare come funziona il mondo cripto ed in generale l'exchange in questione dalla voce buy crypto abbiamo tutte le possibilità di deposito di euro all'interno di widget su acquisto rapido abbiamo la possibilità di depositare anche tramite paypal cosa da si truneare è il fatto che per quanto riguarda un deposito bancario e l'acquisto rapido bisogna avere il KFC attivato mentre per quanto riguarda un acquisto di euro tramite carta di credito debito non è necessario avere il KFC attivato per depositare tramite carta dalla sezione trade abbiamo tutto quello che riguarda il trading quindi sia lo spot trading il wallet senza leva finanziaria sia il wallet futures che sfrutta la leva finanziaria con i futures usdm e con i futures usdc nonché con le futures coin vi ricordo che le futures coin sono quelle monete che utilizzano se stessa come collaterale nelle operazioni di trading dai mercati troviamo tutti i dati relativi ai vari mercati nonché le classifiche delle crypto o eventuali dati che vogliamo andare a ricercare abbiamo poi la sezione copy trading che ci permette di andare a copiare sia persone nel futures trading sia persone nel trading spot quindi saremo noi a decidere se copiare un determinato trader nello spot o nel futures chiaramente nei futures si effettua un trading con leva finanziaria nello spot senza leva finanziaria saremo chiaramente noi a decidere quanti soldi destinare ad un copiaggio di un trader esperto all'interno della piattaforma potremo in nostra volta andare a creare una nostra strategia e farci copiare da altri trader trovati in ogni caso sulla leaderboard diciamo un elenco diciamo dei migliori trader che ci sono stati all'interno di budget per esempio negli scorsi mesi o nelle scorse settimane in questo momento non è caricata la pagina non viene caricata diciamo che quindi non è abilitata la leaderboard voi troverete i trader direttamente cliccando o su futures copy trading o su copy trading spot ripeto la differenza è che sui futures si usa leva finanziaria sul copy trading spot si fa un trading senza leva finanziaria giusto per fare un esempio entro dentro copy trading spot anche se vi ripeto uscirò un video a riguardo questi sono tutti i trader che noi possiamo andare a copiare qua di norma budget ci restituisce dei trader che decide lui però se vogliamo andare a cercare un determinato trader lo potremo andare a fare abbiamo poi l'ultima sezione che è la sezione earn la sezione earn è il cosiddetto staking che ci permette di guadagnare interessi andando a detenere criptovalute all'interno della piattaforma per determinate diciamo coppie di staking soprattutto in defy lo staking non è assolutamente male all'interno di budget anzi ritengo che sia una valida valida validissima alternativa a il binance earn quindi dato un'occhiata anche a questa sezione qua che è la sezione relativa allo staking in ogni caso uscirà un video anche su questa sezione sempre dalla sezione guadagna che è la sezione dedicata allo staking abbiamo poi informazioni sul token bgb che è il token dell'exchange budget e un'altra cosa all'interno di budget vengono rilasciati ogni mese o comunque sia con costanza abbastanza regolare i launchpot delle nuove coin che si vogliono lanciare all'interno della piattaforma quindi i launchpot servono per andare ad individuare una criptovaluta prima che venga effettivamente listata all'interno della piattaforma per quanto riguarda lo staking abbiamo chiaramente uno staking flessibile e fisso quello a cui siamo abituati a conoscere più tutti quelli che possono essere gli investimenti staking un pochino più complicati quindi ci va di mezzo alla DeFi per esempio nei dual investment ma vi spiegherò bene questa sezione nel video dedicato allo staking di budget ragazzi per questo video è tutto io vi ho spiegato come mettere in sicurezza l'account come registrarvi vi ho fatto vedere quelle che sono le sezioni principali presenti all'interno dell'exchange budget uno dei più famosi exchange di criptovalute al mondo nei prossimi giorni usciranno dei video dedicati agli argomenti in particolare quindi approfondirò il wallet spot, i wallet futures, il copy trading insomma andremo a vedere l'applicazione mobile insomma cercherò di farvi un tutorial di tutto quello che riguarda questo exchange se non siete ancora registrati alla piattaforma Bidget potete trovare il link di riferimento qui sotto nella descrizione del video inoltre vi invito ad iscrivervi al canale per seguire tutti i miei prossimi contenuti da Simodefa anche per oggi è tutto noi ci vediamo nel prossimo video